A messa con la mascherina nella prima domenica di celebrazioni con i fedeli dopo il lockdown, la capienza delle chiese è stata ridotta per assicurare distanza e sicurezza, ma qui al Don Bosco di Potenza la partecipazione è stata buona già dal 18 maggio. Oggi è un po' la prova del fuoco, ci siamo dovuti organizzare, come vedete, un po' al meglio, cercando di dare delle indicazioni più precise possibile, perché comunque le restrizioni sono molto rigide, come è giusto che sia. Abolita la stretta di mano in occasione del segno della pace, la mascherina si è potuta togliere soltanto in occasione dell'eucarestia, chiamati a far rispettare le regole all'esterno della chiesa i ragazzi dell'oratorio in veste di operatori della sicurezza. La distanza in chiesa viene rispettata perché abbiamo preso delle misure, infatti abbiamo diminuito un po' i banchi e si possono sedere due persone a banco, dove appunto viene rispettato il metro di sicurezza. Persone dello stesso nucleo familiare possono sedersi allo stesso banco, appunto perché non c'è bisogno di rispettare la distanza di sicurezza fra persone dello stesso nucleo. Inoltre, ad esempio, non ci si può inginocchiare nel caso in cui c'è una persona davanti, proprio perché sennò verrebbe meno la distanza di sicurezza. Noi possiamo accogliere 150 persone giù, diciamo, nella platea più o meno, e invece nella parte superiore sul matroneo sono altre 50 circa, quindi più o meno un 200 persone in totale. Un'esperienza nuova e seppur con tante restrizioni, tornare a messa per i fedeli è stata un'emozione. Si ritorna a messa? Sì, con molta emozione. I ragazzi sono stati bravissimi ed è andato tutto molto bene. Quindi ritornerà domenica prossima? Certamente. C'è una maggiore riflessione in questo momento rispetto al senso delle cose. C'è bisogno di pregare di più? Quello sempre, però in questo momento ancora di più. Per quelli che hanno vissuto questo momento in maniera tragica, con le persone che sono morte, con le persone che ancora soffrono, con le persone che hanno perso il lavoro. È un momento particolare, quindi sicuramente in questo momento non possiamo far altro che affidarci a Dio. E se la prima domenica dopo il lockdown è andata bene, con i fedeli rispettosi di tutte le regole, da Don Donato arriva un accorato appello a quei giovani che già sembrano aver archiviato l'emergenza sanitaria ancora in corso. Vedo la sera tanta gente che si riversa in questa piazza, quindi faccio un appello alla responsabilità. Vedo tanti ragazzi, tanti giovani che si assembrano, bevono, forse bisogna essere ancora prudenti. Prudenza e responsabilità sono parole che sto ripetendo spesso anche ai nostri ragazzi. L'uso della mascherina, l'uso del distanziamento è necessario, anche se può condizionare il fatto che non ci siano contagi nella nostra regione. Questo non significa che il virus sia andato via.